In questo video andremo a vedere come creare e gestire il nostro team, i suoi vari canali, come poter aggiungere e gestire i membri e le varie personalizzazioni del team. Cliccando su team noi andremo a vedere quali sono i team di cui facciamo parte, di cui siamo o proprietari o eventualmente che ne si offriamo. Con i tre puntini sul team noi possiamo andare a nascondere il team, quindi magari un team che non utilizziamo più, o eventualmente andarlo a eliminare definitivamente. Nel caso in cui dovessimo andare a creare un nuovo team, clicchiamo qua sopra in altra destra, unisce un team o creane uno. Possiamo creare un team, oppure tramite un codice che ci può essere fornito possiamo anche andare a partecipare a un team già esistente. Clicchiamo su crea un team. L'applicazione ci propone quattro tipi di team, fondamentalmente l'applicativo rimane esattamente uguale e cambiano i permessi che hanno i vari singoli membri, studenti o proprietari. A fine di questo video metterò un link in cui potrete vedere le varie tipologie di team e quali sono le proprietà. Noi clicchiamo su classe, ovvero un team formato da docenti e da studenti. Andiamo a inserire il nome del team. In questo caso io vado a creare il mio team di informatica. Qui posso andare a mettere una descrizione aggiuntiva del mio team e eventualmente posso andare a scrivere corso informatica, anno scolastico 2020-2021. E andiamo avanti. A questo punto ci chiederà di inserire gli studenti e gli insegnanti. Quindi gli insegnanti saranno persone come proprietario che avranno dei preliebileggi in più rispetto agli studenti. Un consiglio invece per quanto riguarda gli studenti è di non inserirli subito perché nel momento in cui io vado a inserire gli studenti, loro vedranno un canale vuoto, un team vuoto. Quindi conviene prima gestire tutto il team e personalizzarlo e poi andare a inserire i vari studenti. In questo caso io non voglio inserire nessuno e clicco ignora. Ho creato il mio team di informatica e voglio andare a personalizzare. Cliccando sui tre puntini, in gestisci il team, posso andare in impostazioni e andare a vedere alcuni parametri tra cui il tema del team, in cui faccio cambia tema e vado a personalizzare il mio team. In base alle parole o all'argomento al team, vengono proposte alcune icone. Si possono eventualmente cambiare oppure, se ce n'è una che ci piace, andarla a inserire. Cliccando sui tre puntini, potremo andare ancora a modificare alcuni parametri del nostro team. Gestisci il team, impostazioni e andiamo a vedere le autorizzazioni dei membri. Queste autorizzazioni sono in automatico compilate in base al team che è stato scelto in fase di creazione. Avendo scelto un team che è formato da docenti e da studenti, in automatico questi campi mi vengono disabilitati, ovvero il membro del team non potrà creare, aggiornare i canali, eliminare e ripristinare i canali, aggiungere o rimuove le applicazioni, caricare applicazioni personalizzate e altre cose. L'unica cosa che potranno fare i membri, quindi gli studenti, è quello di eliminare i loro messaggi e di modificare i loro messaggi. Una cosa divertente da andare a controllare sono proprio gli elementi divertenti. Microsoft Team permette di utilizzare le moti con Simm e Gifo Sticker all'interno delle comunicazioni, sia tra docente che tra studenti. Nel caso in cui queste non volessero essere utilizzate, oppure c'è stato un abuso e quindi è meglio, in qualche modo, bloccare questa tipologia di comunicazione, andando in elementi divertenti si possono andare a bloccare. Come ho detto prima, il team si può anche partecipare con un codice. In codice team, facendo genera, io vado a creare il codice del team che posso andare a dare ai ragazzi. Parliamo ora dei canali. Il nostro team informatica ha in automatico un canale che si chiama generale, che viene creato di default ogni volta che viene creato un team. Nel canale generale è un po' la bacheca principale del nostro team, in cui tutti accedono e tutti passano di lì. E' un canale in cui io posso andare a scrivere post, quindi andare a commentare, aggiungere file, c'è un discorso di blocco appunti, ma questo lo vedremo in un successivo video, l'attività e dei voti. Però ora io voglio andare a creare un altro canale, quindi con i tre puntini vado a fare aggiungi canale. I canali sono o dei macro argomenti, dei progetti o degli eventi che il team deve in qualche modo affrontare. Nel mio team di informatica voglio creare due progetti che sono dei progetti di informatica. Quindi vado a creare un progetto sito web azienda rossi, in cui i studenti dovranno poi collaborare e produrre del materiale. Posso mettere sempre una descrizione e c'è un discorso di privacy. La privacy può essere standard o privato. Standard vuol dire che tutti i membri del team possono partecipare, mentre privato soltanto alcuni membri del team possono partecipare. Essendo un progetto che soltanto alcuni ragazzi guarderanno, per esempio l'azienda rossi verrà seguita da un alunno, mentre un'altra azienda verrà seguita da un altro alunno, allora io metto privato e vado avanti. In questo momento, se volessi aggiungere i studenti o insegnanti, non c'è nessun membro del team che è ancora stato inserito, quindi devo fare ignora. Eventualmente se avessi già tutti gli studenti che hanno fatto l'accesso al team e i vari insegnanti, posso andare a inserire i membri in questo canale. Voglio creare anche un canale di domanda e risposta, in cui i ragazzi possono proprio chiedere informazioni oppure si possano chiarire dei dubbi. Quindi faccio un canale domande e risposte. E questo canale deve essere accessibile a tutti e in un'altra voglio che venga messo in risalto, quindi metto visualizza automaticamente il canale nell'elenco canali di tutti i membri e faccio aggiungi. In questo modo il mio team sta prendendo sempre più forma e posso andare ad aggiungere i membri, quindi cliccando in informatica posso fare aggiungi membro. A questo punto posso andare ad aggiungere Mario Rossi che è il mio studente e Luigi Bianchi. E faccio aggiungi. Queste impostazioni si possono anche vedere con i tre puntini in gestisci il team, nei membri io vado a vedere chi sono i miei membri. Quindi c'è un discorso e proprietario che sono io e poi ci sono i miei studenti. A questo punto voglio che il progetto sito web venga assegnato a un ragazzo, quindi faccio aggiungi membri e vado a mettere Mario Rossi. Mentre voglio creare un nuovo canale, quindi sito web azienda bianchi, e in questo momento voglio che sia lo studente Luigi Bianchi. Quindi l'alunno Mario Rossi vedrà questo canale, mentre l'alunno Luigi Bianchi vedrà soltanto questo canale. Si capiscono che sono privati dal lucchetto. Quindi ho creato il mio team informatica, creato il mio canale domande e risposte in cui i ragazzi possono rispondere e fare delle domande, e ho creato i miei due progetti che sono assegnati a dei singoli ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.